presso il nostro studio troverai un ambiente accogliente e riservato dove poterti allenare ed essere seguito durante tutto il tuo percorso il pilates è una disciplina utile per il miglioramento dell'ecolibrio della postura del tono muscolare della mobilità articolare e del benessere in generale il motivo per cui rivolgerti e affidarti a noi qui trovi uno spazio non solo fisico ma anche e soprattutto mentale lontano dalla routine e dallo stress quotidiano ti aspettiamo